Se questo video arriva a 50.000 mi piace, prossima volta Bomberini la baciamo con la lingua Ciao a tutti ragazzi, io sono Eze e ben tornati quest'oggi con un nuovissimo video vlog direttamente da là Se vi ricordate in uno degli ultimi scherzi vi chiedi più di 20.000 mi piace per andare a trollare Kat Come potete vedere quelle cifre le abbiamo non solo raggiunte ma anche superate in modo abbondante Quindi come sempre iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e mi raccomando ragazzi Il pollicione qui sotto Spaccato da tutto quanto dobbiamo arrivare almeno a 30.000 mi piace Confido in voi perché questo sarà uno scherzo al bacio fatto ad una pischella Naturalmente come in tutti gli scherti fratello martello Eze avrà dei complici Ossia fratello martello sblito A rapporto E fratello martello ussa Naturalmente possiamo urlare quanto vogliamo perché Kat in questo momento è giù, c'ha le puffie quindi non sente niente nessuno Allora ragazzi Vabbè vabbè Allora ragazzi oggi è arrivato il momento Ok? Pieno male sto trollando un po' tutti Sono scherzi su scherzi però insieme oggi dobbiamo andare a trollare Kat Easy Kat e bacio da trollare Oh ho già il primo scherzo Come ne dico Bacio in bocca Wow Wow Aspetta vai Che storia del bacio in bocca Sei geloso fra Oh no Sei geloso Sei geloso Willy È geloso È geloso Tra l'altro come potete vedere ci sono arrivate in mille le scorte del nuovo gusto level up crazy monkey edition Questo gusto sarà disponibile dal 5 luglio alle ore 18 e come sempre ragazzi con il codice sconto EZ2 avete la possibilità di prendere due gusti al prezzo solo di uno Ci siamo Allora primo scherzo Vieni fratelo Oh vieni Sei pronto? Io sono Kat La po- Andiamo 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 Mi fate il cuore fra Mi sento male fra Mi sento bocca Ci sento male la conda No fra non mi ci riesco perché non posso farlo Apri la porta Apri il suo Vai Ciao Kat Kat Ciao Kat Ma sei fatto male Non lo so Ascolta Kat Mamma mia Che gambe No perché quando entra così c'è sempre qualcosa No non c'è niente Ma senti Kat Vieni Ci andrei a un attimo su a aprire qualcosa Possiamo o no? A aprire qualcosa? Io e te? No noi Io so se vuoi stare solo soli Nel soli No dai andiamo Ok andiamo Bene Arrivo Oh mio Dio È andata bene andata bene Per il momento sì Oddio Tutto bene Kat? Sì tu? Eh sì Ah sono perfetto Guarda puoi mettere la mano qua? Ok Vedi come batte? Ma perché? Eh nel senso che sì Come pulsa l'altro Eh niente Oh Kat mi è caduto Puoi prenderlo per favore No Allora Kat Oggi voglio offrirti una roba speciale Ok? Vai Kat con la presa Ok questo qua è il nuovo gusto di level up Quindi mo ce lo beviamo insieme E poi mi dovrei dire il gusto Non lo so È la prima volta che lo bevamo qui Non l'ho mai È nuovo Ok Ok Vai Kat Facci vedere come si apre un level up Dai Ok Ok Sì se me lo dici Me lo fa subito Vai stappa Vai stappa Sì sì vai vai Perfetto Signori signori Crazy monkey Nelle mani di Kat Da notare quante Il diametro Il diametro lì è È poderoso Oh no fra Oh no fra Non è poderoso quel diametro lì Ma c'era che so il mio No no Kat ti dicevi a fare un level up O lo sai fare Allora so farlo E tu giudicherai se so farlo Vai Oh che bello Sopra sarà il level up più buono della mia vita E poi capirai perché Allora vai mettici un po' di ghiaccio Bravissima E poi ci devi mettere mezzo litro d'acqua Vai mezzo litro d'acqua Dai L'odore è buonissimo Eh sapessi del mio coso vai Come? Niente niente Vai vai Un misurino And let's go E poi signore e signori C'è la parte più bella Ossia Kat devi shakerare E devi shakerare Aiuto Vai con due mani una Attenzione signori Livello estremo No fra No fra No fra Fra che mi fa No bro No bro 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 Ehi Bro Ehi Ehi bro Ehi Se andò pure questo Sì No vediamo prima Prima io Anzi guarda Facciamo una cosa Allora mo Devi dire che la sale Ok Non è bevuto manco io Sì È dolce Mazza Stato dolce Ti sento un po' Stato È una bomba Sono carico Mi sei la scatola Mi dai un bacio Mi vai scappare Mi dai un bacio Mi dai un bacio Adesso Non so perché Mi dai un bacio Ma non è 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 un bacio Perché mi hai giocato Ma non è un bacio Ma non è un bacio È una cosa un po' Grigia Però Ma sei Rende il bacio Sì Non so Mi sento Va bene vai Stavi ci certo Non è stata riuscita Vai Madonna mia Mi è assoluta Non è stata riuscita Vai 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 Porca Non è meglio Mamma mia Non me la leggo albito No È il primo scherzo Andato Ok allora Primo scherzetto Andato Anche se me la sarei fatta volentieri Ti giuro Ma scusami Mettimi un bacio Ma è vero Adesso però Più andiamo avanti E più gli scherzi Diventeranno Sempre più cattivi Quindi Sapete cosa facciamo adesso Andiamo a prendere Una bella pentola La riempiamo di acqua Ghiacciata E poi PAM Cass perdonami Ti vogliamo tanto bene Ma questo giro Sei la nostra vittima Oh mettici bravo Il ghiaccio Che diventa bello E la madò Bella gelata zio Me la dovete portare in piscina Ok Ok Me la portate in piscina Ok Appena arrivo in piscina E scurito la pentola Della doccia Capito? Giù 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 La riempio così tanto La pentola La riempio Allo stesso modo Di quanto io riempirei I c***o Ti prego Ti prego Ti prego Che schiva Io vorrei vedere Che schivo Che schivo Oh mamma Che buzza Oh mamma mia Che buono Ok Ok Se parola Dile quando È nel punto giusto Mi dovete dire Stingulino Allora fratto Io mi nascondo qua Lei la dovete portare tipo qua Io vado lì Li faccio cut E vieni per fare la copertina Che il video di Ezza è finito Ok Dai che dobbiamo fare la copertina All'altra Copertina Ok Quella di prima non andava bene Andava bene Perché qua adesso Qua c'è la luce Quindi non possiamo stare qui Perché qui è contro luce Bisogna andare lì Così Così No no Qua 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 Aspetta Ecco lì Più in là Più in là Più in là E lì Guarda lì Dove Vieni Che ragno Allora hai visto lì Lì Lo vedi Che cosa fai a non giuderelo Guardi E questo Mi fa chissi Che schifo Che schifo Si Ce la schiacciate No No frate Che puzza Che puzza Che puzza Mi divento io Che puzza Hai visto i capelli Si Sono diventati Rossi Almeno Sì I capelli Sono bicolorati di prima Cut Giuro che il ketchup È stata un'idea di sblitto Sério Sì Poi facciamo i conti Minchia sei tutta Insomma Insomma Ricordati che ti vogliamo bene E meno male Cut Comunque si è bagnata Senza volerlo Buona doccia cut Buona doccia Ciao E anche questa Let's go È andata Ma non è finita qua Perché gli scher Sai cos'è Ogni volta Dobbiamo aumentare Tipo Eh certo Fratello Allora Dal momento in cui Adesso Lei sicuramente Si andrà a fare una doccia Perché c'ha tutto Il ketchup in testa No Si va a sbriare In doccia Sperando di non Mostrare Devo farla vedere Devo farla vedere Lo so Sperate Non Sperate Si Sperate Sperate No No Sperate Sperate Ma si stava togliendo la maglia S'arrabbiata Fra ma un secondo dopo Sapete l'unica cosa che mi dà fastidio l'avete fatta Aspetta ho visto un film iniziare così Tre uomini e una donna Che film hai guardato? Non lo so Tiriamo anche questo Vai Fra vai Adosso io lo devi tirare Ma lei è baseball Vai 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 È un video 12 ore troll Dovremmo pure farla arrabbiare Sì Vai così cattivo Farà sì Che è? Raccogli tu Entrare in una camera senza farci sentire con Split e Ussa È praticamente impossibile raga Ma Fra ma tu l'hai vista? Era così eh? Ma ci guardiamo tra di noi? Ma è quello il problema Era così che stava dormendo così Come che era? Oh sì Oh ciao Catt Ciao Ti ha posto? No Che è successo? Ho già capito Mi hai preso di mira tu oggi Cosa vuol dire? È Sblitto che ha detto a Ezi di andare a fare Capito? Esatto è stato sblitto eh Allora l'idea del ketchup è stata di sblitto Sì Sblitto Sempre sblitto? Sì Sbitto 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 è una cosa? Dimmi E se ti stanno facendo credere che sono io ma non sono io? No perché sarei più tranquillo Perché secondo te noi? Cioè diciamo sblitto di andare a lanciare la roba dei puzzle E secondo te io devo lanciare tutto più tranquillo e non scappo? Ma secondo te è tipo no? Sì Oddio 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 Porca finestra Io ti prendo e ti trunco Tieni Cut Lanci questo Aspetta un altro annunizio E tieni Ma non mi è appena aperto qua Oh no Sca Ma che lancio è Cut Eh sì Ma cos'è? Ma cos'è? Ma che c'è? Ma che c'è? Mi sento male Mi sento male devo andare via Adesso però lasciando un po' di pausa a Cut Poverina che la stiamo massacrando Quello che vedete è il mio profilo di Instagram Vi dirò di più Nell'arco delle ultime 12 ore E colui che mi seguirà per ultimo sul mio profilo Riceverà in privato un video saluto direttamente da Cut Avete capito bene? Quindi raga fossi in voi Io andrei sul profilo di fratello Martello Eze Spaccherai tutto Signori come potete vedere in questo momento sono esattamente le 23.01 Che pensavate seriamente che fossero già finiti i troll delle 12 ore Cut Assolutissimamente no Perché adesso lei in questo momento è in chiamata su Discord con dei suoi amici E indovinate un po' fratello Martello Cosa va a fare? Gli va a staccare il cavetto di internet al loro zio Raga qua c'è sblitto raga che sta cucilando Sì zio lei è in chiamata su Discord con dei suoi amici Ok cioè lei pensa che siamo finiti gli scherzi Invece no fratello perché trovi 12 ore di fratello Martello Eze Sono inaspettati bro Se poi non si fa anche neanche le mani Ci vuoi da te Quello è il cavo? Quello è il cavo? Vieni Vieni Sì così col potenzio Raga non so se si vede lei è qua dentro Guarda 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 È in chiamata È in chiamata vai È il momento È il momento Allora il suo cavo è quello nero Giusto? Sì Accendi la luce? Bravo Ecco bravo Staccato Guarda Guarda che adesso esce Guarda che adesso esce La posso vedere da qua La sua porta è quella lì Ok Guarda guarda Eccola qua 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 Dio mi vecchio Sì fai contento di cucinare Vabbè Buona sta pasta Buona buona sta pasta Oh fra Stai da mangiare più tardi E anche questo Lo portiamo a casa Where's it go bro? Troppo easy Oh fra Se io andassi a staccare di nuovo Ma io voglio rischiare Fra voglio rischiarmela Oh fai conto che c'è Allora lì era sul Discord con noi Ed una certa crashata Che? Che? Cat? Mi ha staccato il cavo E ora lo andavo a staccare di nuovo Ragazzi è tornato il cavo staccato Non so cosa è successo Vai 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 vieni Sei chiuso dentro Sei chiuso dentro Buon fra Io lo spacco Oh my god La pasta La pasta La pasta La pasta La pasta È bollente l'acqua? Sì sì Adesso si può versare E' uscita Ma dov'è? Ok, vado De nuovo? Sì, fra la Io lo devo staccare, non mi interessa Bravo, tu tieni la porta chiusa, bravo zio Seblita tiene la porta chiusa Io stacco, fra Guarda che ora esce dalla porta Però mi sa che si incazza di frutto No, sto facendo la pasta Bomberoni, detto questo Direi che anche queste 12 ore All'interno della stream house Le abbiamo fatte, potevo andare avanti Fino a un dopo domani con gli scherzi Ma tranquilli perché prossimamente Ne arriveranno altri sempre su cut Detto questo vi raccomando Spolliciate, commentate Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Non perdetevi tutti i video All'interno della stream house Da fratello Bartoletti è tutto Un saluto, un abbraccione Ciao campioni